Posso suggerire a queste persone di pensare al futuro, di andare avanti, cioè è inutile dire ma se non fosse stato lì chissà cosa avrebbe fatto, cosa non avrebbe fatto, bisogna proiettarsi al futuro, non è semplice, io lo dico e cerco di farlo, non è che abbia una ricetta in tasca, però bisogna fare così. Cosa si può fare per non lasciare solo parole su queste macerie? Noi come genitori ci siamo uniti e abbiamo deciso di fondare un'associazione che partirà il 22 luglio, Associazione Generazione Erasmus, proprio per coinvolgere tutti i genitori che hanno figli e che faranno queste esperienze. Il fine è quello di avere una normativa europea più uniforme ma soprattutto più severa nel controllo di questi viaggi che vengono organizzati in modo decisamente un po' superficiale, sicuramente senza seguire delle norme di sicurezza che ci vorrebbero. Senta tutto questo riesce a scacciare i fantasmi dei colpevoli in qualche modo? Ma io diciamo sinceramente, parlo per me, non mi interessa tanto il discorso del colpevole, mi interessa che non succeda più in futuro una cosa del genere che poteva essere evitata con un doppio autista, facendo fermare i ragazzi a dormire a Valenzi invece che ripartire alle 4 di notte dello stesso giorno. Grazie.